Sono Antonio Corizzi e sono il titolare del punto affiliato Toscano Cant Casal De Pazzi da ormai 20 anni. Eh sì, 20 anni. Avevo 28 anni quando ho iniziato nel gruppo Toscano. Venivo da altre esperienze lavorative, ma cercavo qualcosa che mi potesse dare maggiori soddisfazioni professionali ed economiche. Il mondo immobiliare mi ha sempre incuriosito ed il rapporto con le persone non mi ha mai creato problemi. Con il gruppo Toscano ho potuto intraprendere un percorso preciso e molto organizzato. Parlavo di percorso, infatti in Toscano ho avuto ed ho la possibilità di crescere giorno dopo giorno, sia professionalmente che economicamente, e raggiungere così anche i miei obiettivi personali come l'acquisto di una casa e il crearmi una famiglia. Per fare la gente immobiliare non basta però solo un bell'abito o una gravatta. Dietro ci deve essere una persona con un cuore, un'anima e ambizione, perché noi realizziamo i progetti di vita della gente. E questo significa creare fiducia. È il primo segreto del successo per un agente immobiliare. Com'è questo lavoro? È un lavoro di squadra dove nasce un profondo legame tra le persone e dove non si viene mai lasciati soli. Ecco, proprio questo legame, questa energia è la base fondamentale di un percorso pieno di obiettivi e soddisfazioni sotto ogni punto di vista, anche e soprattutto economico. Stai cercando un lavoro in questo settore? Ti invito nella mia agenzia, in Viale Marx, dove faremo insieme uno stage retribuito e dove condividerò con te tutta la mia esperienza. Ti aspetto! Grazie!